E' stato chiarito se la scuola chiuderà definitivamente oppure no e noi come comunità ci battiamo per avere questo plesso ancora aperto negli anni futuri e non è stato ancora chiaro il fatto che questa scuola sia sicura oppure no. E' ancora bufera attorno all'asilo l'Aquilone di Matrignano. I genitori dei bambini che lo frequentano lunedì mattina presenti in Cozziglio Comunale continuano infatti a chiedere chiarimenti circa le condizioni attuali della struttura dopo l'annuncio della sua chiusura. La risposta che ci danno è che molte altre scuole sono in queste stesse condizioni e allora ci domandiamo perché chiudere la scuola a settembre se è nelle stesse condizioni di altri istituti. E sono sempre i genitori a chiedere altri chiarimenti in merito al futuro delle due classi che come deciso dall'amministrazione comunale saranno trasferite alla Tricca. La Tricca non è una soluzione ottimale, può essere una soluzione tampone ma per un periodo di tempo che noi vogliamo sapere quanto è questo periodo. I genitori nel corso di un incontro inoltre si sono potuti confrontare con gli assessori Tanti e Gamurrini. Per l'adeguamento sismico abbiamo avuto delle risorse 200 mila euro dal Ministero che però sono insufficienti rispetto a quello che ci viene rappresentato ovvero che per l'adeguamento complessivo servono circa 600 mila euro. Quindi stiamo verificando se con il Ministero riusciamo a reperire ulteriori risorse oppure se questi 200 mila euro ci possano essere assegnati anche per un miglioramento sismico. Non è scontato che convenga fare l'adeguamento sismico piuttosto che una demolizione, una ricostruzione magari in bioedilizia. Sulla questione della sicurezza di edifici c'è molta confusione in quanto non esiste una normativa che ci dica che dobbiamo chiudere o tenere aperti in determinati casi e viene lasciato alla coscienza degli amministratori. Al tema delle mura si pone poi il problema del servizio educativo. La risposta che noi diamo è quella di non separare questi bambini, di continuare a considerare che l'offerta formativa in quella zona debba essere quella che c'è adesso. Faremo dei lavori alla Tricca che anticipiamo in parte, che erano già previsti e che ne faremo di altri per consentire a queste famiglie di avere la stessa proposta formativa nello stesso plesso con gli stessi maestri e maestri, nella stessa realtà territoriale sappiamo che non è una comodità ma sappiamo anche che a volte delle scelte coraggiose vanno fatte.